Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere la posizione della tartaruga, la posizione base della tartaruga, quella adatta anche ai principianti. Si parte con il busto eretto, le gambe piegate davanti a noi, e da questa posizione uniamo i piedi con le piante dei piedi che si toccano l'una con l'altra, in questo modo. Dopodiché col busto eretto posizioneremo le mani sotto, in pratica sotto le caviglie, quindi in questo modo, e ci abbasseremo lentamente con il busto, in questa maniera. Mentre siamo nella posizione dovremmo sentire i muscoli sostanzialmente delle anche e anche dell'interno coscia che si strecciano. Teniamo questa posizione per alcuni respiri, idealmente per 60 secondi, e dopodiché la sciogliamo. Ritorniamo nella posizione di partenza. Questo esercizio è molto importante perché libera le anche e libera sostanzialmente il muscolo flessore delle anche e delle gambe, che è l'opsoas. L'opsoas è il muscolo che è collegato alla risposta combatti o fuggi, pertanto avere l'opsoas libero e quindi le anche libere è molto importante per superare situazioni di stress, partendo dal corpo. Quindi mindset, body set collegati, perché partendo dal corpo possiamo anche liberare la mente, come abbiamo visto più volte. Provate e alla prossima! Ciao!